C'è un paio di scarpette rosse, numero 24, quasi nuove. Sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica, Schultze Monaco. C'è un paio di scarpette rosse in cima a un mucchio di scarpette infantili a Buchenwald. Erano di un bambino di tre anni e mezzo. Chissà di che colore erano gli occhi bruciati nei forni, ma il suo pianto lo possiamo immaginare, si sa come piangono i bambini. Anche i suoi piedini li possiamo immaginare, scarpa numero 24, per l'eternità, perché i piedini dei bambini morti non crescono. C'è un paio di scarpette rosse a Buchenwald, quasi nuove, perché i piedini dei bambini morti non consumano le suole. Joyce Lussu, un paio di scarpette rosse. Grazie. 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 Grazie.